Buongiorno! Buongiorno! Senta, un triple timer, questo è un cocciolo, ragazzi. Tutto in anticipo, ci voleva un po' d'acqua fresca dopo questa giornata di sole in questo bellissimo paese. Senti, il bagno? Direto sulla destra. Va bene, grazie. Buongiorno! Ma ringrazio, quanto è vero? Niente, tutto pagato. Va bene, buonasera! Ciao! Ciao! Bocchiere d'acqua in cuore. Naturali o pizzanti? Bizzanti, grazie. Prego, grazie. Ha un caldo qua, pure siamo a notte, eh? Non è che dici. Eh, giusto. Ci voleva. Senta, dobbiamo anche andare al bagno. Eh, preghiamo. Dai, ragazzi, certo. Mi vuole un altro poco? Basta, vai. Buonasera. Buonasera. Grazie. Voi, ragazzi! Eh, ci hai da pagare, eh? No, non ci hai, che... C'è da pagare, l'acqua. Ci hai da pagare, l'acqua, l'acqua, l'acqua che... E quant'è? Di solito dalle mie parti ho 8 o no? No, certo, io 1 euro, non ho capito nessuno Ehi, ehi, io c'ho queste, c'ho eh No, troppo è su Il resto!